buongiorno a tutti allora iniziamo il pomeriggio del gigione con tre bei video uno di serie b che andiamo a vedere cosa ha combinato il como nel weekend poi parleremo del fantacalcio laghe e poi c'è un'altra gara di sci pronta da raccontarvi poi vedrò un'altra gara di sci che così si recupera e ve la metterò per domani per mercoledì mattinata poi mi vedrò la champions non vi farò i video delle due gare di champions ve le faccio ve lo faccio mercoledì notte che mettiamo tutto assieme così faccio tutte e quattro e niente quindi bando alle ciance ciancio alle bande andiamo a parlare di questo como brescia allora nel complesso il risultato ci può stare nel complesso perché nel primo tempo il brescia ha avuto più possesso palla ha cercato di rendersi pericoloso ma non è che ci sono state grandi parate di sempre o che cosa però bisogna dire che c'è quella trasversa di olsen 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 giocatore della cantera del milan che è lì da secondo anno al brescia adesso vi dico il nome esatto che sta tremando ancora adesso perché è vero che il solito strefezza secondo gol seconda partita secondo gol con il como pesante però quella traversa lì di olsen olsen attaccante esterno o se no attaccante della segna poco due gol l'anno scorso quest'anno non ho ancora fatto un gol francamente non mi sembra un attaccante a meno che non va avanti a traverse perché ha preso una traversa abbastanza clamorosa scusate quella abbastanza abbastanza e quindi sono cose che bisogna dire dall'altra parte poi c'è stata anche una bella parata di sempre devo dire che primo tempo poteva finire anche uno a uno però nella ripresa sembrava che il como avesse preso dominio un attimino di più del della gara però il brescia come sempre ogni volta che si presentava dalle parti del del bon sempre si rendeva pericoloso perché c'è un altro palo tiro palo anzi quasi doppio palo perché prende un palo attraversa tutta la porta al pallone sfiora o tocca l'altro palo poi viene preso da un giocatore del brescia che è in fuorigioco e quindi è l'azione prosegue con un alto tiro ben parato da sempre ma era a gioco fermo quindi uno a zero ma se finiva uno a uno non c'era nulla da dire poi è vero che nella ripresa al como ha fatto un po di più si è reso più pericoloso ha avuto due o tre gol annullati sempre per fuorigioco giusti uno per farlo di mano uno per fuorigioco un altro gol è stato annullato nel primo tempo sempre per fuorigioco c'erano quindi non è che il como è stato lì a guardare il brescia che prendeva i pali però alla fine della fiera un uno a zero che diciamo sta un po stretto al brescia è andata bene è andata è andata bene tre punti pesanti però non sempre l'avversario prende il palo quindi bisogna essere come dico sempre il como deve essere più cattivo sottoporta e a gabrielloni non gli posso dire nulla anche l'altra se l'altro giorno ha fatto la solita sua partita di cattiveria c'è stata un'azione ne aveva tre addosso era sulla tre quarti della metà campo del del brescia lancio lungo c'ha tre giocatori che lo circondano uno che gli sta proprio attaccato come la cozza allo scoglio e lui riesce a a divincolarsi in qualche modo tener palla e passare a un compagno quindi lotta si sbatte tutto quello che volete cioè non gli puoi dire niente a gabrielloni però deve essere più cattivo sottoporta ha avuto due o tre occasioni a fa ha passato al portiere cioè strefezza gli ha passato non so se era strefezza o chi per esso gli ha passato un bel pallone in piena area di rigore all'altezza del dischetto calcia bene no l'ha controllata si è girato e poi gli ha passato un tiro ma neanche io tiro così piano poi ne ha avuto un altro anche quello un altro bel passaggio al portiere deve essere più cattivo perché non sempre gli avversari prendono solo il palo quindi un bel brescia un bel como maran penso che sarà stato soddisfatto della della prestazione della sua squadra e il como ragazzi miei va bene si è portati a casa tre punti libidine però se vai a palermo a giocare così la prossima non so se torni a casa con almeno un punto è manca la cattiveria sottoporta in attacco adesso speriamo che vediamo le condizioni del buon cutrone perché con tutto il bene che posso volere ripeto a gabriellonio non gli posso dire nulla si sbatte come come un matto però il buon cutrone magari con verdi e strefezza alle spalle potrebbe essere un quid in più vediamo se mi dicono qualcosa già stamano sinistra rotta l'hanno operato e tutto quanto io spero che con un tutore qualcosa possa tornare in campo almeno per la sfida con il palermo già norsi già dalla sfida con il palermo perché è la mano non è che ti hanno attenti si è rotto il metacarpo del piede allora è un altro discorso e la mano tuttorino è vero che sempre un rischio perché se cadi male della disfi definitivamente vedremo vedremo se ce la farà se riuscirà a rientrare o dovremmo aspettare tra due settimane e nel caso mi auguro che il buon gabrielloni pucci il biscottone non ci metta solo la garra che ci mette sempre perché ripeto strefezza si sapeva che avrebbe fatto la differenza anche l'altro giorno un gol mica da ridere tiro a giro all'incrocio dei pali golasso verdi e da cugna stanno facendo bene però anche loro non è che da cugna mi fai la doppietta poi basta non si segna più verdi tecnicamente è tanta roba però anche da lui vorrei assist gol qualcosa fa fumo fa belle azioni salta salta al diretto a poi poi e poi e poi gol da niggas ti sta inserendo bene poi ogni tanto si si butta già in avanti gol annullato fortunato perché palla rimbalza sul braccio del suo compagno di squadra adesso non mi ricordo se era sul suo gol o lui era in fuorigioco quando ha segnato o se è lui che ha segnato il gol colpo di testa palla sul suo compagno che gli finisce sul braccio forse quello era il gol di Gabrielloni sfiga poi l'altro gol era in fuorigioco di poco ma era in fuorigioco va bene comunque ripeto il Brescia ci ha messo paura paura due pali una traversa e un palo qualche gol annullato però ci stavano ragazzi non è che puoi recriminare era un fuorigioco purtroppo abbastanza chiare il fallo di mano la regola è questa basta che tu hai il braccio leggermente largo e fallo di mano perché il giocatore del Como quando gli rimbalza la palla sul compo di testa del suo compagno ha le braccia così ecco penso si veda la palla gli rimbalza qua e lui ha il braccio in questa posizione non è che ha le braccia così ce le ha così anziché essere così tanto basta quindi non si può dire nulla però alla fine della fiera tre punti pesantissimi portati a casa con gran fatica con gran fatica bisogna dirlo si è sofferto perché attraversa palo bisogna dirle le cose come stanno e se finiva 1 a 1 non c'era nulla da dire è andata bene però non può sempre andare bene poi a volte sono gli altri a prendere il palo a volte siamo siamo noi a prendere o meglio è il Como a prendere il palo noi non centriamo nulla sono loro che vanno in campo Cutrone il re dei pali non so quanti ne ha presi quest'anno adesso si spera che rientri e risolva questa questione con la zampa detto questo andiamo a vedere come è andata il resto della giornata perché la situazione si fa sempre più interessante allora il Palermo che affronterà appunto il Como settimana prossima in casa è andato a vincere in casa della Feralpi salò 2 a 1 il Venezia è andato a vincere 3 a 0 contro il Sul Tirol che tra l'altro rimane pure in 10 dal 75esimo quando ormai no la partita non era per nulla chiusa erano sullo 0 a 1 dopo l'espulsione sono arrivati altri due gol del Venezia che ha chiuso la questione quindi un'espulsione che è vero che uno potrebbe dirmi Gigi però il gol è arrivato subito del Venezia poi loro non sono riusciti a combinare niente per 60 minuti più o meno e poi quando sono rimasti in 10 ne hanno presi altre due la Cremonese pareggia 1 a 1 in casa con la Reggiana e non ha neanche la scusante dell'espulsione di Jonsen perché è avvenuta al novantesimo quando ormai la partita era finita e tra l'altro stava anche perdendo 1 a 0 poi ci ha pensato il buon Coda che è un bomber di razza in serie B che fa sempre la differenza e quindi pareggio della Cremonese ma ragazzi miei questo è un pareggio che sa di sconfitta perché con la Reggiana devi vincere Modena e Cosenza pareggiano 1 a 1 e anche in questo caso il Cosenza rimane in 10 però dall'86esimo quando il risultato era già sull'1 a 1 tra l'altro ha segnato Giozzi nel Modena che è un S del Monza del Como giocava l'anno scorso Giozzi che mi ha fatto sclerare un sacco di volte perché anche lui ogni tanto si mangiava qualche gol il Parma è andato a vincere 2 a 1 a Cittadella in maniera tutto nel primo tempo chiuso il discorso 2 a 0 per il Parma e poi è arrivato il gol nei minuti di recupero poi nella ripresa non è più successo nulla o meglio non hanno più segnato proseguiamo con Catanzaro Ascoli 3 a 2 con l'Ascoli che anche lui rimane in 10 tra l'altro dal cinquantesimo minuto quindi è un'espulsione pesante anche perché l'Ascoli stava vincendo 2 a 1 e poi dopo il Catanzaro l'ha rimantata nei 10 minuti finali tra l'ottantunesimo e l'ottantottesimo quindi diciamo che in questo caso l'Ascoli ha la scusante dell'espulsione che purtroppo succede e quando succede le partite poi cambiano completamente il Bari batte l'Ecco 3 a 1 era quello che purtroppo avevo temevo il Pisa batte la Samporia 2 a 0 con una Samp che rimane in 10 all'inizio alla fine del primo tempo per l'espulsione di Giordano e il Pisa ne approfitta nella ripresa per vincere 2 a 0 e probabilmente chiudere il discorso salvezza perché con questi tre punti poi vedremo la classifica ma penso che il Pisa si sia allontanato abbastanza dalla zona pericolo infine Ternano e Spezia pareggiano 1 a 1 un pareggio che sa molto di meglio due feriti che un morto come diceva qualcuno andiamo a vedere la classifica il Parma ricomincia a scappare 51 punti Como e Cremonese sono appaiati a 45 il Venezia è a 44 il Palermo è a 42 il Catanzaro è a 38 Cittadella 36 Modena 33 Brescia 32 e poi c'è anche il Pisa che ragazzi miei il Pisa è a tre punti dalla zona playoff adesso con la bella vittoria sulla Samp il Pisa che l'ultima volta c'è stato Pisa Como pareggio se non ricordo male 2 a 2 1 a 1 con il cronista che diceva è l'allenatore qua là su giù potrebbe riscare Pisa è decimo ed è a tre punti dal Modena due punti dal Brescia e tre dal Modena Brescia nono Pisa decimo pensierino alla zona playoff lo può fare anche lui come lo può fare la Reggiana lo può fare il Bari che sono a 30 punti sono lì a tre punti dalla zona playoff e ogni ogni giornata cambia l'ottava adesso c'è il Modena che sembra che stia tenendo la posizione però tutto può accadere a 29 troviamo il Cosenza a 27 il Sud Tirol con la Sampdoria e queste sono le squadre che diciamo così sono a distanza di sicurezza dalla lotta salvezza anzi alla pari più o meno perché sono a 6 punti dalla zona playoff e hanno 5 punti di vantaggio sulla zona playoff quindi più o meno sono a metà perché in zona playoff troviamo Ternano e Ascoli a 22 con lo Spezia tutte e tre la Feralpi Salò è a 21 e l'Ecco è a 20 quindi sono rimaste più o meno tutte lì vicine vicine in questo momento vista la classifica vista la differenza che c'è di punteggio la zona salvezza se la giocano Ternano Ascoli Spezia Feralpi Salò e l'Ecco tre andranno in serie B direttamente due faranno lo spareggio in questo momento per la differenza reti visto che abbiamo tre squadre a 22 punti lo spareggio per differenza reti non per la questione della classifica Vulsa che di solito dovrebbero usare quella lo spareggio lo farebbero Ternano e Ascoli con la Ternana che ha i due risultati a disposizione nel senso a parità di punteggio tra andata e ritorno passerebbe la Ternana perché è davanti all'Ascoli per la differenza reti ma da qua alla fine del campionato mancano 14 giornate quindi tutto può accadere detto questo andiamo a vedere la prossima giornata che vi ho già spoilerato Palermo Como però si parte venerdì sera con Ascoli Cremonese poi abbiamo uno Spezia Cittadella che è un testa coda tra virgolette perché il Cittadella è in piena zona playoff e lo Spezia è in piena zona serie C Bari Feral Pissalò altra sfida testa coda no testa coda no ma quasi perché comunque il Bari è lì a limitarle dei playoff e la Feral Pissalò sta lottando per la salvezza Reggiana Ternana stesso discorso di Bari Feral Pissalò punto più punto meno Parma Pisa è più una partita tra la prima in classifica è una squadra che sogna i playoff l'ecco Cosenza diventa una partita per il l'ecco importantissima il Cosenza in una posizione di classifica tranquilla ma sicuramente non verrà sul lago sul mio lago a fare prego accomodatevi tanto noi siamo salvi non penso proprio poi c'è un Sampdoria Brescia interessantissimo con una San che può ancora tra virgolette ma alla distanza cinque punti sono tanti però se batti il Brescia magari ti avvicini Catanzaro su Tirol è un'altra partitella interessante vediamo il su Tirol dove si trova perché mi sembra che è il su Tirol il quattornicesimo e quindi anche lui è lì a limitare il bosco il Catanzaro si sta giocando i playoff alla grandissima anzi direi che il Catanzaro forse è la sorpresona di questo campionato perché che il Palermo che il Parma fosse sarebbe scappato verso la Serie A si sapeva delude tra virgolette un po' il Palermo che ci si aspettava fosse più in alto il Venezia è dove deve stare il Como sta facendo un ottimo campionato anche lui la Cremonese sta facendo come ci si aspettava è l'unica delle tre retrocesse che sta facendo un campionato da playoff però un Catanzaro che è arrivato dalla Serie C e che quest'anno si sta giocando addirittura alla Serie A nessuno se l'aspettava fa piacere perché mi ricorda il Catanzaro anni 80 vedremo chi salirà io spero che salga al Como da adottato Gomasco la vedo dura perché c'è Venezia c'è il Palermo c'è il Catanzaro ci sono tante squadre toste c'è la Cremonese e quindi sarà una lotta fino all'ultima giornata e ci saranno dei playoff belli calienti comunque dopo Catanzaro su Tirol si conclude la giornata sabato cioè sabato alle 4 in quarto c'è Palermo si conclude domenica alle 4 in quarto con Venezia Modena altra partita interessante perché il Modena è lì in ottava posizione che cerca di mantenere almeno l'ottava posizione per giocarsi i playoff ben sapendo che tutti gli anni quando ci sono i playoff e non me ne vogliano non me ne vorrà la terza classificata di quest'anno che non so chi sarà ma la terza classificata raramente finisce in serie A spesso ci finisce la squadra che non ti aspetti e spesso può capitare che ci riesca la settima o l'ottava tendenzialmente è la quarta o la quinta solitamente però o magari ci sarà qualcuno che vorrà affatare questo tabù perché l'anno scorso la sfida tra il Bari e il Cagliari vedeva la terza contro la quarta e se l'ha spuntata la quarta o la quinta adesso non mi ricordo il Cagliari mi sembra fosse terza contro quarta però magari mi sbaglio il Cagliari era quinto però la terza era sicuramente il Bari che ha fatto un gran campionato però per punticini è finito terzo si dà per scontato che sarebbe venuto in A loro invece purtroppo il dio del calcio il dio della fortuna perché purtroppo il calcio è anche questo all'ultimo minuto se non ero il buon Lappadula o chi per esso ha trovato il gol vincente dall'altra parte Fonorushin Company non l'hanno trovato ma vera Gasoli io vi saluto vi ringrazio vedremo come andrà la prossima giornata è dura a Palermo a Palermo è dura so che però la cosa bella che mi hanno raccontato alcuni tifosi che l'anno scorso sono stati a Palermo che si sono trovati bene non ci sono stati problemi hanno potuto assistere alla partita sono usciti dallo stadio senza nessun problema senza e queste queste cose qua mi fanno solo piacere perché il calcio deve essere divertimento invece vedo sempre quell'odio quell'astio quel cercare sempre di trovare scusanti eccetera e poi soprattutto vedo tanta ipocrisia che è una cosa che veramente non sopporto io infatti quando ci sono le situazioni particolari strane che aspetto il buon Graziano Cesare poi se il buon Graziano Cesare gli dice no lì c'è un errore grave dell'arbitro qua là su giù chiedo venia eh ragazzi non ci dovrebbero essere questi errori ma ci sono situazioni ve l'ho già detto mille volte a parte il fuorigioco che va benissimo sui calci di rigore anche la moviola perché ci sono calci di rigore lo dai hai sbagliato non lo dai hai sbagliato uguale qualsiasi decisione prendi è sbagliata perché sono situazioni al limite quindi dai rigore ti dicono sì l'hai dato ma potevi anche non darlo sapete quante volte alla moviola succedeva no? c'era l'arbitro fischiava il rigore andava a vederla alla moviola e l'arbitro ha dato il rigore ci può stare però anche se non lo dava non succedeva niente perché comunque è una situazione al limite oppure stavano mezz'ora dieci personaggi che ne sanno di calcio quindi scolciatori arbitri eccetera eccetera difensori attaccanti e non si mettevano da co giornalisti naturalmente ed erano cinque dicevano sì era rigore cinque dicono no non è rigore stavano lì a passarsi la palla a vicenda quindi figuratevi al bar facile dire l'unica cosa che non possono sbagliare sono i fuorigioco teoricamente ma anche lì basta far partire il pallone un attimo prima un attimo dopo e fai quello che vuoi molti dico uno ha scritto il VAR e il male del calcio ma a me sta bene togliamo il VAR poi il primo errore che l'arbitro fa io ti taglio un pezzo di pelle così ci stai accetti la cosa penso di no perché lo abbiamo visto per anni cioè io preferisco che le situazioni vengano riviste dall'arbitro in presa diretta non che alla sera è quella squadra lì ha vinto 1-0 però all'altra squadra mancano tre calci di rigore è però quell'altra squadra gli hanno annullato un gol regolare perché non era fuori gioco io preferisco che sbaglino l'1-2% della situazione stanno lì anche dei minuti a decidere se è gol o non è gol piuttosto che vederlo poi alla domenica lì sì che si falsano i campionati non con il VAR poi ripeto il VAR è utilizzato dalle dalle persone quindi se tu sei corrotto se tu hai già deciso che quella squadra ti sta sulle balle anche se non sei corrotto anche con il VAR si è visto con abisso non ieri sera che ha arbitrato bene in Fiorentina Inter dopo tre volte che hai dato torto alla Fiorentina giochi a Firenze la quarta volta non poteva esimersi dal dare un rigore che non c'era ma succedeva al finimondo siccome ha pensato anche alla sua appellaccia ha dato un rigore inesistente perché non poteva per la quarta volta che il VAR gli diceva guarda che purtroppo non c'è nulla guarda che purtroppo c'è un fallo precedente il rigore non c'è andare contro alla Fiorentina io l'ho capito è anche una questione psicologica e ha dato quel rigore per fallo di petto ma d'altronde noi siamo le cavie no siamo quelli siamo le cavie fa niente lasciamo perdere dovevamo parlare di serie B però io sono ben felice che c'è il VAR poi ripeto se un arbitro decide che quella squadra lì gli sta sulle scatole vuole fare il protagonista e andare contro il VAR pensate che c'è stato un arbitro con la Fiorentina in una partita che contava poco che ha stravinto la Fiorentina in Conference League ha deciso di andare contro il VAR che gli ha detto che quella palla era entrata e lui ha deciso che la palla non era entrata perché l'ha decisa lui e annullato il gol di Beltran se non sbaglio cioè veramente quindi va bene ragazzoli lasciamo perdere la mia era una battuta spero che non si offenda nessuno sulla storia di quello che ha detto il mare è il male del calcio perché aiuta in tutti gli sport c'è la tecnologia c'è nel basket c'è nel football americano proprio per evitare problemi ed errori gli arbitri sono umani e con il VAR possono permettersi di stare tranquilli lasciare correre non fischiare subito finisce l'azione sopra controllano lo chiamano dicono guarda vai a rivedere questa azione così si è più tranquilli poi tanto le polemiche le vogliamo fare lo stesso perché come diceva il buon Maurizio Mosca il calcio senza polemiche non c'è gusto perché loro non sanno parlare di calcio di occasioni da gol di gesti atletici belli eccetera no devono fare polemica perché se non fanno polemica perdi di è un po' come le trasmissioni televisive in cui quando si insultano share su share starremo 74% sono contento di essere nel 26% che non l'ha visto adesso ci sarà Heller che metterà tutti i video di tutte le canzoni eccetera che io non vedrò gli mando vado direttamente sullo youtube faccio partire il video così il video va avanti per i fatti suoi io mi faccio i fatti miei ha la sua visualizzazione ha il suo mi piace ma io non lo guarderò ma almeno lei ha la sua visualizzazione il suo mi piace che gli serve per detto questo ragasoli il campionato di serie B è sempre più godurioso e sarebbe bello qualcuno dice sarebbe bello fare i playoff e i play out anche per la serie A io resto dell'idea che sarebbe sbagliato perché magari una squadra fa come l'anno scorso mettiamo un caso il Napoli l'anno scorso ha fatto il campionato solitario ci sono i play off il Napoli ha vinto il campionato è arrivato primo gli si dice guarda noi teniamo buona la classifica per la Champions però si rimette in paglio il campionato quindi tu giocherai con l'ottava la seconda gioca con la settima la terza gioca con la sesta e la quarta gioca con la quinta poi le vincenti si affronteranno in semifinale e poi ci sarà la finalissima che metterà in paglio il campionato magari la finale è Inter-Napoli in Milan-Napoli o magari addirittura nel Napoli nella prima nella seconda arrivano in finale ci arrivano la sesta e la quarta e quindi la sesta nel campionato vince lo Scudetto anche no ragazzi tu hai meritato di vincere lo Scudetto di un punto di due punti di tre punti di dieci punti di quindici punti eccetera non metti nella saccoccia cosa vuol dire i play-off mi vanno bene per la Serie B che è la terza molto meglio un play-off tra la terza e l'ottava che non dire la terza del campionato di Serie B sfida la terz'ultima del campionato di Serie A secondo voi chi sale chi resta in Serie A la terza della Serie B o la terz'ultima della Serie A un po' come fanno in Francia e in Germania quello è sbagliato perché è già scontato che si salva quella della Serie della Serie Superiore ma beh ragazzoli mi sono diluncato troppo ripeto spero che nessuno si offenda per la battutaccia che ho fatto ma ogni tanto mi fanno mi fanno girare i testi quelli che se ne vengono fuori con queste frasi è una frase che ho visto su Facebook più di un mese fa comunque il VAR e il male del calcio ma stiamo scherzando meno male che c'è poi ripeto va usato in maniera intelligente e quando serve quindi quando non lo usano c'è un motivo vuol dire che non serve non è il VAR e spento e io infatti aspetto sempre il buon Graziano Cesari perché oggi ho litigato col mio amico del calcio che è juventino e mi 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 gli ho detto sì è vero con il Verona c'è il fallo di bastoni però nessuno ha fatto notare anzi l'hanno fatto notare ma è passato in cavalleria che sul primo gol del Verona c'è un fallo su Arnautovic in partenza non fischiato sul calcio di punizione che arriva al calcio di rigore per il Verona c'è un fallo di mano di Lautaro o almeno è stato fischiato un fallo di mano di Lautaro e lì il fallo di mano c'è dove che proprio la mano lui la prende con i piedi quel pallone lì va in contrasto e la palla gli va all'osso ma non va sulle mani cioè non c'è nessun tocco di mano se l'ha inventato l'arbitro quindi fate vedere tutto come ho già detto quella partita doveva finire 1-0 ma sono ben felice che sia finita 2-1 perché mi ha segnato frattesi e mi è servito per vincere la gara di fantacalcio e quindi lì ho goduto quindi al massimo poteva incazzarsi il mio avversario al fantacalcio perché se gli annullavano il gol a frattesi avremmo fatto un pareggio ecco ma non poi eh ma c'era il fallo ragazzi il fallo in Atalanta Inter non era uguale anzi era pure peggio quando ha pareggiato l'Atalanta con Di Marco che viene preso e buttato per terra lì non è fallo ah no è giusto così non è fallo perché Bissec ha fatto così che era un fallo molto inferiore a quello ah no quello lì è fallaccio ipocrisia cioè non si guarda che questa squadra ha fatto 50 50 gol ne ha subito i 12 sta mettendo sotto tutte ma si sta a guardare pip 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 vabbè lasciamo perdere devo parlare di serie B però ogni tanto mi parte la cosa vabbè lasciamo perdere dobbiamo parlare di serie B e ho fatto la postillona io comunque ripeto la serie B la sto seguendo da un po' poi quest'estate naturalmente cercherò di seguire anche i playoff lunghissimi della Lega Pro Serie C che sono una libidine 30 passasquadre 32 quello che sono che si affrontano e una sola verrà in in serie B quindi una bella bella sfidona divertente cercherò magari di raguagliarvi tra un piatto e l'altro l'anno scorso ci sono riuscito quindi spero di riuscirci anche quest'anno chiedo Venia mi sono dilungato troppo ho parlato anche di cose che non c'entravano nulla con la serie B e ci vediamo naturalmente alla prossima ciao